Ben trovati al TG Economia di ITL Group. L'Ungheria è Twitter, settimana assegnata dall'impatto del social network di microblogging sulla vita delle aziende. Un dipendente Vodafone Hungary è stato licenziato per aver commentato in modo beffardo con l'account della compagnia il comunicato della rivale ungherese Timo Bill in merito al guasto che ha impedito ai suoi clienti di usare i telefoni per un'intera mattinata dovuto a un blackout. Uno scherzo che ha costato il lavoro al dipendente verso il quale i migliaia hanno espresso solidarietà via Facebook diventando fan di una pagina da lui fondata dopo l'accaduto. Ha scelto Twitter anche il caposettore business development di Google Ungheria che ha rassegnato le dimissioni proprio con un messaggio di 140 caratteri su Twitter. General Electric ha deciso che licenzierà 1.235 dipendenti nel 2010 e altrettanti nell'anno seguente. L'annuncio della riduzione di personale è stato dato ad ottobre ed è stato supportato dal governo ungherese tramite il Fondo Europeo che garantisce assistenza a chi dovrà organizzarsi e trovare un nuovo impiego. L'Ungheria sarà presente alla fiera IMA 2010 dedicata alle novità delle imprese, delle macchine da gioco e dei distributori automatici. La fiera si terrà in Germania a Dusseldorf dal 19 al 22 gennaio e vedrà la presenza di espositori da tutto il mondo, da molti paesi e anche dall'Italia. A causa della crisi economica solo un quarto dei centri commerciali in costruzione in Ungheria saranno pronti entro il 2011. Per il momento è tutto, vi ricordo la nostra intervista settimanale con Oggi incontriamo mercoledì prossimo e vi auguro una buona settimana dalla redazione economia.hu ed ITL Group. Arrivederci! Grazie a tutti!